Ciao, sono Alice! Ecco, solo per te il volantino MD, in super anteprima! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Su trovavolantini.it Le offerte della tua città, a portata di un clic! Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ehi, ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino Lidl Non perderti l'anteprima Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurospin Non manca tanto, dai! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!